Il terzo movimento, anche questo è importantissimo spostare il peso. Respiriamo molto lentamente, tutti i momenti si fanno lentissimi perché la lentezza fa molto bene e potete anche respirare lentamente e profondamente. Stando rilassati e aperti potete fare respirazioni che sono molto benefiche. Cercate di portare il peso completamente sul piede in modo che l'altro piede sia vuoto, pieno e vuoto. Potete ripeterne anche pochi, l'importante è cercare questa lentezza in modo che riusciate anche a fermare la mente. Infatti il Tai Chi è un'ottima pratica meditativa di rilassamento mente-corpo. Potete praticare con i nostri insegnanti questi esercizi nelle prossime tappe del Nordic Tales. Grazie.